Siamo qui a Romics 2015 con l'astronave T-65 X-Wing Starfighter che compare in Guerre Stellari, una astronave immaginaria molto bella, ricostruita qui nel padiglione numero 5 della Fiera di Roma per il Romics 2015 di ottobre. Il Romics oggi è il 1 ottobre, finisce il 4 ottobre. Si tratta di un'astronave mitica, già nel 77, nel 78, quando è uscito Guerre Stellari, la prima puntata, compariva il protagonista Luke Skywalker su questa astronave e sconfigge la morte nera proprio con questa astronave scagliando una bomba nel cuore della morte nera il mezzo con cui l'impero voleva distruggere i ribelli. Ecco, regia può inquadrare il bel modello. Abbiamo già visto qui a Romics e a Roma delle sfilate della legione 501, della 501esima legione e anche il caccia imperiale, quello dell'impero, che abbiamo visto esposto anche durante la manifestazione al Colosseo di un paio d'anni fa nel giorno dedicato a Guerre Stellari, il 4 maggio. Be the force with you, il moto. Questa invece ci mancava, eccola qua. Quindi concludiamo, potete venire a vedere e a farvi le foto fino al 4 ottobre 2015 qui a Roma. Grazie a tutti da Romics, arrivederci, grazie.